Questo è Albi O ciò che ne rimane Ciao Albi come stai? Ciao Albi T'ho a posto? Bene dai Tre giorni duri Tre giorni duri Purtroppo con me qui E' possibile che esca tra un po' Sì 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 Bene Buon lavoro carissimo Allora Allora niente Io ho il microfono Si chiude di studiare Studia pure e fai il tuo approccio Si do un po' di cose dai maroni Ah no per ricordare c'è anche del contenuto Lo scocchiamo Io qui avevo immaginato di prendere il Charlie qua Solicamente uso un 414 cardioide Lo metterei on quasi quasi Ce la giochiamo sulla distanza Così abbiamo un accento anche sugli start E vediamo se funziona come ripresa Poi la stereofonia arriva di là E vediamo cosa succede Poi anche lì ce la giochiamo Perché alcuni microfoni bisogna metterli Tipo il ride A me piace un casino Se si può non metterli Perché mi fa cagare il ride Inoltre Grazie a tutti Signore e signori, un momento molto privilegiato dalla produzione dell'album Abbiamo il grande, leggendario, quasi satanista Alberto Macerata All'editing, alla recording e tutto il resto Ciao oggi Ciao Ciao Allora La parte quella iniziale dove c'è il service in chiuso così Non è venuto tutto bene Quindi Ti riferci a questa parte iniziale che è con gli stacchi No aspetta non gli stacchi Con la parte Con il primo ritmo diciamo Ciao 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 Nessun soluzione